Oggi vi parlerò di una parola che sentite spesso, loggia. Se siete interessati all'argomento, seguitemi dopo la sigla. Cari tutti, sono Emanuela, mi occupo di storia della massoneria e oggi vi parlerò di un termine massonico molto importante e conosciuto, loggia. Innanzitutto, non bisogna confondere il termine loggia, che è un'entità a sé stante, con il termine obbedienza o ordine, che invece rappresenta l'unione di più loggie in una struttura organizzativa come può essere il Grande Oriente d'Italia o altre obbedienze. Come sappiamo, la massoneria è un ordine iniziattico, tradizionale, che persegue l'elevazione spirituale e morale dell'uomo e a tale fine segue l'esoterismo come metodo di insegnamento e il simbolismo quale strumento operativo e attuativo del metodo. E proprio l'alloggia è uno dei simboli più complessi e fondativi della libera muratoria. Partiamo dal significato letterale. Secondo alcuni studiosi, la parola deriva dal sanscrito loka, che significa universo. Secondo altri, invece, deriva dal greco logos, che significa parola. Altri ancora fanno derivare la parola alloggia da alloggiamento, ossia il luogo in cui si custodivano gli attrezzi da lavoro, riprendendo quindi la tesi che la massoneria contemporanea tragga origine dalle gilde muratorie. Nell'ambiente massonico potrebbe essere valida la definizione data dalla Costituzione del 1985 del Grande Oriente d'Italia, che definisce l'alloggia come corpo primario e fondamentale della comunione. Essa è la collettività autonoma e sovrana dei libri muratori regolarmente e ritualmente costituita per lo svolgimento dei lavori massonici. Per costituire un'alloggia è necessaria la presenza di sette massoni che abbiano il grado di maestro. Essa viene costituita dopo il rilascio da parte del gran maestro di un documento che è chiamato bolla di fondazione. Con la fondazione l'alloggia ha sia un nome sia un numero di matricola, si freggia della bandiera italiana e ha un proprio labbaro. L'alloggia si riunisce nel tempio ed è guidata nelle sue attività dal venerabile maestro. L'alloggia si dota di un proprio regolamento che non può contenere norme in contrasto con il regolamento generale dell'obbedienza. Il maestro venerabile presiede, governa e rappresenta l'alloggia. Nelle sue attività è coadiuvato dai dignitari di loggia che sono il primo sorvegliante, il secondo sorvegliante, l'oratore, il segretario e il tesoriere. Nell'alloggia si discute e si delibera su tutti gli argomenti che non siano in contrasto con le costituzioni e il regolamento dell'obbedienza. Tutti i massoni sono tenuti a rispettare le regole e i principi massonici. L'alloggia, una volta costituita, è sottoposta alla giustizia massonica, anche se le sue attività sono state sospese. I massoni devono giustificare ogni assenza dei lavori. Nel caso un massone debba allontanarsi temporaneamente dal luogo in cui assiede la sua alloggia, deve chiedere la dispensa dai lavori. Finora vi ho parlato dell'alloggia dal punto di vista tecnico, vi è però un altro significato più intimo che ora andrò brevemente ad illustrare. L'alloggia rappresenta l'unione dei fratelli che lavorano insieme e fare parte dell'alloggia significa riconoscersi in un percorso spirituale comune e seppur fatto in maniera individuale non può prescindere dalla presenza dell'altro. Si può lavorare al proprio miglioramento interiore anche da soli ma solo l'alloggia, quindi come complesso simbolico, formativo e accogliente può prenderti per mano e unirti ad altri fratelli in una catena. Nel linguaggio massonico la parola alloggia viene affiancata ad altre parole, ad esempio le logie azzurre o logie di San Giovanni sono quelle in cui lavorano i massoni che hanno i primi tre gradi, apprendista, compagno e maestro. Invece le logie di perfezione sono quelle in cui lavorano i massoni che ricoprono i gradi sempre del rito scozzese antico accettato che vanno dal quarto al quarturdicesimo. Grazie per aver seguito questo video, se ti è piaciuto l'argomento ti prego di mettere un like, di iscriverti al canale youtube, di cliccare anche sulla campanella delle notifiche in modo da rimanere sempre aggiornato sui video. Grazie e al prossimo! Grazie a tutti!